Raga ve lo giuro con tutte le luci sparate in faccia in questa camera che ci sono 6.000 gradi non si vive Ciao signori benvenuti a un nuovo video io sono Emilio e oggi... oggi parliamo La voce l'ho persa tutta completamente Allora ragazzi miei voi lo sapete ovvero molti di voi lo sanno che ogni tanto Ma che è stamattina? Ragazzi miei voi lo sapete che ogni tanto io faccio questa rubrica chiamata Occo Parliamo Dove vi vado a dire alcune novità del canale, i cambiamenti eccetera eccetera Allora innanzitutto partiamo con le novità Finalmente dopo un sacco di tempo e non so perché ci hanno messo un sacco di tempo Mi hanno accettato la monetizzazione su YouTube Quindi ragazzi ho deciso anche di mettere le donazioni libere Quindi prossimamente appena riesco durante la settimana spero di riuscirci Faccio il link dove potete donarmi quanto volete, se volete Così lo faccio perché lo fanno tutti, voglio essere commerciale Punto numero 2, voglio ringraziarvi per le dirette perché stanno andando bene Sono contento di quello che sono riuscito a fare E vi ricordo che ogni giovedì dalle 21.30 sono in diretta Questo però accade quando c'è l'orario normale E sì perché prossimamente cambieranno un po' di cose Visto che da questa settimana sono in ferie per fortuna Cambieranno due o tre cose La prima settimana sono a casa quindi se mai ci sarà qualche diretta in più Eccetera eccetera vedo un attimo di organizzarmi Dalla settimana 2 andrò via Quindi già dal weekend della prossima settimana vado via Vado tre giorni ad Arco di Trento Tornato da Arco di Trento vado in vacanza in Sardegna Tornato da Sardegna vado in vacanza a Vicenza E quindi è difficile che le live ci saranno al giovedì sera come di consuetudine Però quando ritorno, visto che ho qualche giorno di stacco tra una vacanza e l'altra E farò delle dirette per recuperarle Quindi non so bene i giorni Adesso organizziamo Comunque qui sotto in descrizione trovate il link Della mia pagina Facebook e Instagram Dove vi dico l'anticipo quando farò le dirette Vi tengo aggiornati Quindi iscrivetevi E così siete aggiornati Ostia Parliamo un attimo di vlog Ovvero andrò ad Arco di Trento Vi porterò un vlog Finalmente che da tantissimo che non lo faccio Andrò in Sardegna e vi porterò anche il vlog della Sardegna Adesso vedo se riportarvi anche il vlog di Vicenza Perché sinceramente non so di bene cosa andrò a fare Quindi adesso vedo di portarvi anche quel vlog lì Quindi prossimamente ci saranno anche dei vlog Ovviamente usciranno qui a settembre Perché io ritorno un giorno di stacco, due, poi riparto E quest'anno è un po' così ragazzi Però dalla prossima settimana Per tutta la settimana sono a casa Quindi c'è il caso che un paio di dirette riesco a farle Spero proprio E niente ragazzi Quindi queste erano le novità Tra virgolette Voi lo sapete che quando io vado in ferie Cambiano un po' gli orari E diciamo non c'è il normale svolgimento Come di consuetudine è sul canale Che tra l'altro ultimamente sto mandando un po' a fanculo Perché i video li sto facendo uscire alla domenica Perché durante la settimana facevo veramente fatica A farli E niente ragazzi Quindi concludo con questo video Spero ovviamente che vi sia piaciuto Ragazzi miei iscrivetevi e attivate la campanellina Così potete sapere quando andrò in diretta Non sempre funziona Quindi vi terrò giornate sui social Quindi come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale E se un commento mi piace Iscrivetevi al canale E se vi è piaciuto A tutti i bambini in cui sentite Iscrivetevi al canale E se vi è piaciuto Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao